L'Associazione Robin Hood torna sui lavori in corso presso la Casa dello Studente per la realizzazione della Casa dello Studente. Con quali novità, con quali richieste? Innanzitutto siamo allarmati perché nella conferenza di fine mandato dell'attuale presidente della DSU si è parlato di Casa dello Studente, cui i lavori finiranno nel 2026. Fuori da qualsiasi tipo di logica, è soprattutto vergognoso se noi pensiamo che la Casa dello Studente, l'unica che manca nel capologo di provincia della regione Abruzzo, Teramo, è destinata a favorire la permanenza, la residenza degli studenti nel luogo di studio, soprattutto quegli studenti che hanno meno possibilità economiche, è tutto qui, è tutto detto. Soprattutto perché nella conferenza stampa che si è tenuta in risposta ad agosto, in risposta al nostro comunicato nel quale lamentavamo che i lavori non andavano avanti, così come bisognava che fosse, ci hanno dato i dati sbagliati perché hanno dato come realizzate le opere che invece ancora non venivano realizzate e soprattutto un cronoprogramma che non hanno rispettato perché avevano parlato di affidare una ditta esterna a gennaio per quanto riguarda la costruzione della struttura del secondo lotto che è quella destinata ai dormitori. A aprile e maggio avrebbero iniziato a montarla questa struttura e se andate nel cantiere siamo ancora fermi ai lavori che devono essere avviati ad agosto del 2023, ovvero hanno fatto qualche scavo, hanno messo alcuni pari e basta. State pensando ad un esposto? Noi, sì, interesseremo a questo punto, interesseremo alla Corte dei Conti e in più per alcune situazioni sulle quali noi abbiamo chiesto ad alcuni uffici di intervenire e questi uffici non sono intervenuti, faremo anche lì delle denunce, l'esposto alla Corte dei Conti, denunce a questi uffici per omissione di atto di ufficio.